E' uno dei pochissimi rimasti a Teramo dopo la rivoluzione tecnica voluta dalla nuova società. Matteo Piacentini, classe 99, riscattato a titolo definitivo dal Sassuolo, già lo scorso anno nella difesa 3 di Maurizzi aveva fatto intravedere le sue qualità. Contedino finora sempre in campo nelle tre giornate disputate da centrale e sinistro nella difesa 4. Sono molto contento per questo inizio di campionato, abbiamo lavorato tutti bene. Non mi aspettavo magari subito di trovare un posto, però ho fatto di tutto per ottenerlo. Poi sono state anche altre circostanze che hanno permesso ciò, però sono contento perché adesso sento un po' di fiducia dopo tre partite, però adesso bisogna continuare a lavorare e migliorare ancora di più. Quindi la conferenza è scivolata sui primi tre punti stagionali incassati domenica scorsa contro la Cavese nel nuovissimo Bonolis. Una vittoria vissuta come una liberazione e che potrà essere anche un input importante di voler far bene anche in trasferta a partire da sabato prossimo nella sfida di Vibo Valencia contro il Rende. Sì, perché sentavamo un po' il bisogno di dare anche soddisfazione alla nostra gente, che ci ha fatto sentire questo calore anche in presentazione. La società nuova ci chiedeva di far bene perché vogliamo ripagare le persone che stanno dietro a tutto ciò. Questa vittoria è stata molto importante sotto questo punto di vista perché ce lo meritiamo tutti. La prima vittoria esterna ci servirebbe perché deve arrivare, dobbiamo fare di tutto per raggiungerla. Questo lo stiamo facendo adesso in settimana, abbiamo ancora qualche giorno per affinare due o tre cosette e limare le nostre carenze. Per concludere un pizzico di gossip, Matteo è fidanzato oppure no? Sono singolo a tutti gli effetti.